Parte da Roma il riconoscimento europeo dei clown ospedalieri, professionisti dello spettacolo al servizio della sanità. L'evento presentato al Campidoglio ha lo scopo di dimostrare attraverso interventi di ricercatori, professori e medici di diversa nazionalità la validità della ludoterapia e delle attività svolte dagli operatori di Soccorso Clown Onlus che aiutano i bambini a vivere più serenamente l'ospedale. Attori dall'evidente talento comico in grado di lavorare e agire in costante collaborazione con lo staff ospedaliero in un ambiente dove la sofferenza, l'isolamento e a volte anche la morte sono fatti quotidiani. Yuri Alshansky, direttore generale dell'Associazione Soccorso Clown Onlus. Clown ospedaliero è una nuova professione che è nata in Italia dopo un progetto di formazione che si chiamava Clown in Cursie. Questo progetto è nato proprio per dare un nuovo bacino di impiego a professionisti dello spettacolo, cioè nuova professione, nuova specializzazione perché noi lavoriamo in ospedale, faccio a faccio con bambino. Roma Capitale investe circa 500.000 euro per il progetto Sorridi in Ospedale con cui consente a professionisti del settore di svolgere attività di clown terapia nei principali centri pediatrici ospedalieri romani. Ogni anno questi nasi rossi con i loro abiti colorati fanno tornare il sorriso sul viso di più di 17.000 bambini, ha sottolineato l'assessore alla famiglia all'educazione ai giovani Gianluigi De Palo. Non si può banalizzare questo tipo di lavoro, il bene e l'amore non si improvvisano e loro ci mostrano attraverso la loro formazione e la professionalità che anche facendo il clown dottore lo si può fare in vari modi o improvvisandolo oppure facendolo con una formazione tale che ti permette anche di portare un contributo reale. Diversi gli interventi di medici ed esperti sul tema. Da tanto tempo a Siena ci occupiamo di clown, di clown terapia in particolare, i bambini vengono accompagnati in sala operatoria e i nostri studi sono proprio fondati su queste ricerche, cioè di vedere se i clown possono diminuire il trauma e il dolore nei bambini. Abbiamo voluto vedere anche quanto la presenza del clown possa ridurre l'ansia dell'infermiere. L'infermiere è una figura fondamentale in un reparto di chirurgia pediatrica in quanto è il primo che accoglie il bambino nel suo ingresso in ospedale. Abbiamo accolto l'associazione soccorso clown da diversi anni con noi e naturalmente loro ci sono molto utili per quella funzione della terapia del dolore non farmacologica. Noi abbiamo bisogno per una patologia oncologica naturalmente di poter accompagnare i bambini in sala operatoria in modo da detendere la loro tensione prima di entrare in sala oppure di accompagnarli quando vanno a fare delle indagini diagnostiche, la TAC, la risonanza.